ringrazio, ringrazio per l'invito, per essere venuti e aver sfidato il caldo di Roma allora io dovrei parlare della civiltà del dominio che cos'è la civiltà del dominio cercherò di spiegarlo in poco tempo perché vorrei che ci fosse spazio per i dibattiti, per le realtà che potessimo confrontarci mi sembra sicuramente più utile dal punto di vista, l'ha già accennato Maria Giovanna, fondata soltanto della scuola di Francoforte che magari qualcuno di voi avrà sentito, era una scuola filosofica, sociologica che è andata molto per la maggiore negli anni 30, 40, 50, 60 poi si è un pochettino, diciamo, si è un pochettino inglobata nel sistema e oggi è meno interessante dal mio punto di vista quindi vi parlerò dei classici della scuola di Francoforte Adorno, Marcuse, per chi l'ha sentito allora, la prima cosa da cui volevo partire è la sensazione stranissima che viviamo in un'epoca in cui l'ecologia è sulla bocca di tutti praticamente non c'è nessuno che oggi parli contro l'ecologia dai detersivi alle trasmissioni televisive ai presidenti americani, ai vicepresidenti americani tutti parlano di ecologia quindi sembra quasi che l'ecologia abbia vinto mentre mi sembra proprio che il fatto che voi avete fondato un'associazione ecologista è antistimulante del fatto che probabilmente è soltanto una sensazione indiannevole e quindi forse è stata neutralizzata l'ecologia ha avuto un periodo dagli anni 70 di lotta in cui si cercava di far capire che c'erano dei problemi che andavano al di là di quello che riusciva a vedere l'economia problemi anche epocali poneva l'ecologia questioni di tipo radicale di un cambiamento epocale nel modo di vivere tutto questo è stato in qualche modo oggi assorbito per essere neutralizzato nella sua portata evoluzionaria ecco, non so se voi siete d'accordo su questo non possiamo parlare ma secondo me è abbastanza evidente io credo che uno dei problemi che sta alla base di questo qui proprio può, di questo inganno è il fatto che quando noi parliamo di natura non abbiamo bene chiare le idee su che cos'è la natura o ci facciamo un'immagine della natura sbagliata ad esempio, parlando di natura lo accennava già Maria Giovanna per il mare parliamo di ambiente come se la natura fosse appunto una specie di paesaggio in cui gli esseri umani vivono e questo paesaggio non dobbiamo sporcarlo perché altrimenti è brutto vivere l'ambiente ma la natura non è una cosa che sta fuori di noi la natura non è qualcosa di esterno come l'uomo anche l'uomo è natura quindi in qualche modo dobbiamo capire come raffortarci con qualcosa che anche noi siamo e questo già ci pone dei problemi teorici, concettuali noi non riusciamo ad articolare chiaramente questo problema i greci parlavano di fuses e di tecne la fuses è ciò che si genera da solo la tecne è ciò che l'uomo produce artificialmente ma già questa dicotomia non è così evidente non è così facile da accettare anche perché l'idea che la natura sia semplicemente qualcosa di esterno che noi dovremmo proteggere che noi dovremmo lasciare intatto addirittura negli esiti più estremi di questa visione perché chiaramente se la natura è ciò che non è l'uomo l'uomo deve in qualche modo rompere e non è possibile rescatare la natura perché la natura è qualcosa che va da sé è qualcosa anche di a questo punto ingiudicabile perché se io non posso mettere mano perché altrimenti quello che faccio distrugge è invasivo allora inevitabilmente io non posso giudicare quello che è natura all'inizio che posso regolare dei cicli della natura in qualche modo mi impone e tutto questo è chiaramente falso perché la natura se prendiamo questa espressione nel suo senso più proprio non è meno distruttiva dell'uomo la natura si evolve con una serie di catastrofi e la natura non è un ordine armonico che noi possiamo contemplare nella sua purezza la natura non ha niente di puro e non ha niente di armonioso l'armonia è un concetto umano che noi proiettiamo sulla natura in questa veste quando noi la consideriamo qualcosa di esterno a noi quindi il problema è di capire da un lato come relazionarci dicevo all'inizio con qualcosa che in realtà noi stessi siamo dobbiamo abolire questa dicotomia tra ciò che è umano ciò che è culturale ciò che è tecnologico e ciò che è naturale è una dicotomia che non sta in piedi e dobbiamo appunto soprattutto abolire la dicotomia tra l'interno e l'esterno per cui ciò che è fuori di noi è natura e in qualche modo ci dobbiamo rapportare con qualcosa che ci è estraneo questa dicotomia è proprio esito del tipo di pensiero del tipo di sistema sociale cultivo, culturale che ha prodotto il disastro di cui noi siamo testimoni allora il rapporto tra l'uomo e la natura va articolato in maniera più corretta e secondo me un modo per farlo è mettere in mezzo proprio la tematica di cui io mi sono occupato in alcuni scritti cioè la tematica dell'animale la questione animale cioè capire l'animale può aiutarci a interpretare in maniera più come dire più articolate quindi anche più efficace sia concettualmente che praticamente sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico il rapporto tra l'uomo e la natura l'animale è in qualche modo il croceria del nostro rapporto con la natura è quella quella catena che ci lega al mondo naturale e che noi insistentemente dobbiamo censurare dobbiamo negare proprio per poter giocare questo gioco sporco e ingannevole di una dicotomia tra noi e la natura stessa e dico che il croceria è che in qualche modo è il punto di passaggio necessario di ripensamento della natura perché inevitabilmente l'animale è ciò che ci è più vicino è ciò che ci è più vicino e proprio perché ci è più vicino dal punto di vista emotivo dal punto di vista come dire biologico psicologico esistenziale anche gli animali hanno un mondo diverso dal nostro ma hanno un mondo proprio perché ciò che c'è più vicino è ciò che deve essere appunto espulso più radicalmente dal dall'ambito dell'umano per poter stabilire questa dicotomia tra la cultura e la natura tra la tecnologia e l'ambiente dobbiamo espellere e questo è quello che abbiamo fatto nel corso di millenni sia da un punto di vista simbolico che da un punto di vista materiale l'animale dall'ambito dell'umano dal noi da quello che noi percepiamo come nostra comunità e questo l'abbiamo fatto dall'alba dei tempi se se voi ci pensate e gli animali domestici abbiamo ridotto la loro in qualche modo la loro il loro essere selvatico facendoli vivere ai margini della nostra società umana e quindi addomesticandoli cioè trasformandoli e modificandoli per in qualche modo adattarli al nostro al nostro modo di vivere alle nostre esigenze ma se ci pensate bene anche gli animali selvatici sono selvatici perché noi li abbiamo res selvatici perché avendo in qualche modo avendoli espulsi dall'ambito urbano poi magari non ci parleremo di questo e avendo allargato a dismisura il raggio della nostra presenza sul pianeta inevitabilmente questi animali noi non li incontriamo e quindi diventano degli strani per noi sono degli effetti del nostro modo di vivere del nostro modo di pensare e di pensarci che noi non percepiamo più per cui quello che noi vediamo è la fine di questa catena di effetti e la fine di questa catena di effetti è la dicotomia tra l'uomo e la natura dicevo che l'animale viene espulso nella civiltà di cui noi siamo parte simbolicamente e materialmente cosa vuol dire questo? da un punto di vista simbolico significa che l'umano si definisce per negazione dall'umano noi abbiamo costruito una società una civiltà molto complessa in cui inevitabilmente ciò che noi siamo viene determinato da ciò che escludiamo dal cerchio dell'umano e questo ha prodotto una serie di contraccolpi a partire dall'antica Grecia fino a adesso direi qualcosina sull'età moderna e l'età contemporanea una serie di contrappolpi una serie di dualismi che anche questi noi ci portiamo dietro e che modellano il nostro modo di percepirci di percepire il mondo prima ancora che noi diventiamo consapevoli che è il motivo per cui è così difficile modificare semplicemente con un'azione di convincimento argomentativo razionale il sistema attuale perché è un sistema che non come dire che passa dentro di noi passa attraverso i nostri corpi l'inconscio prima ancora che attraverso la nostra adesione razionale e consapevole dualismi come la mente e il corpo per esempio in cui un polo di questa dualità rappresenta qualcosa che ci è più proprio e l'altro qualcosa che in qualche modo noi dobbiamo controllare dobbiamo dominare nessuno può concedirsi concedirsi come individuo adulto maturo senza ziente se non ha una mente che domina il proprio corpo questa visione non è una visione ovvia banale e lo è per noi perché nel nostro modello di civiltà si è imposto questo tipo di dicotomie il corpo è l'animale dell'uomo dice Galileo oppure un'altra forma di dicotomia che rimbalza su questa è contigo a questa ma non è ma non concito con questa tra sentimento e razionalità per esempio sentimento e razionalità i sensi e l'intelletto anche qui per essere pienamente se stessi per essere pienamente umani bisogna sapere dominare i sentimenti altrimenti ci si comporta come bestie o come femmine altra dicotomia il maschile e il femminile maschile che domina che ha il controllo di sé la padronanza e il femminile che invece è l'aperto che è un termine propositivo in realtà no è è debole è appunto ciò che si muove ciò che è in grado di ciò che si prende cura anche diventava una di moda di parlare della cura come se fosse una cosa positiva dipende da come si intende la cura bambino adulto l'abbiamo dovuto cacciare via il bambino perché lui giustamente ai nostri miti non si presta ma anche questo che ci sia l'età della ragione e che prima dell'età della ragione si sia invece totalmente inconsapevoli totalmente incapaci di produrre qualcosa che abbia un senso e un'utilità non è così scontato follia e razionalità no tutte le trottomie che in qualche modo attraversano la nostra storia e tutte inevitabilmente guarda caso mettono nel cono d'ombra di ciò che deve essere espulso o dominato controllato amministrato che cosa tutto ciò che è più vicino alla natura tutto ciò che è lontano da un'idea di umano come una identità forte padrona espansiva appunto dominatrice inevitabilmente maschile allora questa è la scelta del dominio la scelta del dominio è fondata su questo tipo di meccanismo un meccanismo di asservimento dell'altro in cui l'altro viene ridotto nel senso di un riduzionismo nel senso di un marcare con i con i con i caratteri dell'inferiorità e della pericolosità tutto ciò che entra in questo cono d'ombra per essere dominato controllato gestito amministrato non è soltanto l'altro è anche ciò che incessantemente mette in pericolo questo sistema questa questa grande dinamide del potere su cui si regge l'occidente solo l'occidente? no non solo l'occidente in realtà il nostro sistema culturale e produttivo attraverso una serie di metamorfosi è riuscito a innestarsi in tutti in tutti i continenti è riuscito in qualche modo a imporsi e a vincere perché perché probabilmente la radice stessa su cui impoggia il sistema occidentale che è soltanto più più virulento e più radicale nelle sue pretese ma non assiologicamente cioè eticamente nei suoi valori fondamentali diverso ogni forma di civiltà poggia sull'assegimento della natura della natura non umana cioè di una natura che è intesa fin dall'origine come qualcosa di altro da noi e che noi dobbiamo controllare dominare per poter sopravvivere questa idea non nasce soltanto in occidente nasce anche altrove ed ha dovuto attecchire perché tutte le grandi civiltà a loro radice hanno questo vizio fondamentale di interpretare la natura non umana come qualcosa appunto a disposizione dell'uomo certo da noi in occidente questo ha subito ulteriori ripercussioni e quindi il sistema si è chiuso in una morsa per cui come dire questo ha reso molto più efficiente molto più distruttivo e quindi anche vincente da un punto di vista prettamente economico cioè di una sfida di forza di una lotta di forza allora la natura non umana di cui appunto l'animale è il punto di passaggio fondamentale perché se colpisci quello se rendi l'animale che è ciò che è più simile a te totalmente altro da te se lo annulli simbolicamente allora è gioco facile nel considerare anche il resto della natura non umana come qualcosa di alto e alto a disposizione quindi se da un punto di vista simbolico è stato possibile ridurre l'animale non umano a qualcosa di esterno quindi inferiore e quindi gestibile dall'uomo questo chiaramente da un punto di vista simbolico ha avuto una sua ripercussione materiale cioè un tipo di sistema produttivo abbiamo costruito un tipo di sistema produttivo in cui l'animale funziona come prima come ingranaggio e poi come materia brutta del nostro potere l'uomo sempre fin dall'antichità non sempre usato l'animale come forza lavoro ma soltanto recentemente in termini di storia della scienità in termini millenni siamo arrivati a pensare che l'animale fosse materia prima c'è avuto Cartesio per dire che l'animale è una macchina ma come diceva intelligentemente Marx Cartesio vede l'animale come una macchina perché pensa con gli occhi del periodo della manifattura l'animale serve deve essere ridotto a macchina se io voglio mettere in campo un progetto di dominio totale sulla non e questo è stato adesso possibile appunto non a caso a partire dal 600 proprio dalla rivoluzione scientifica prima si sentiva che parlava dello scientismo ecco meno male che se ne varla perché lo scientismo è un grosso problema non la scienza ovviamente che è un concetto antico anche Aristotele faceva scienza lo scientismo è una ideologia ideologia che come dire di un certo modello di scienza fa l'alfa e omega di ogni sapere fa il criterio di misura della verità lo scientismo cioè l'idea che è vero sia solo ciò che rientra dentro dei canoni di tipo calcolistico di tipo quantificante di tipo appunto utilitaristico e tutto ciò che sta al di fuori di questo ciò che non è qualcolabile ciò che non è quantitativo ciò che non è utile diventa in qualche modo non solo non interessante ma addirittura fastidioso a un progetto di dominio e di controllo e se ripercorrete quelle caratteristiche che dicevo prima la corporeità il sentimento la sessualità il mondo del bambino o il mondo del folle sono tutte cose che non si possono calcolare sono tutte cose che rientrano nell'ambito del qualitativo sono tutte cose che rientrano nell'ambito del non utile anzi anzi anche la sessualità ciò che c'è di bene nella sessualità ciò che è utile ciò che sfugge al calcolo allora diceva Simbano Petrosino che è un filosofo dell'Università di Milano dicendo qua che ci fanno vedere il sesso ce lo fanno vedere il sesso umano come il sesso delle marmotte dicendo due cose giuste una cosa giusta e una cosa sbagliata che è vero che ci fanno vedere il sesso umano come il sesso delle marmotte il problema è che ci fanno vedere anche il sesso delle marmotte come un sesso meccanico cosa che non è bisognerebbe entrare nella mente della marmotta per sapere cosa è il sesso della marmotta cosa si prova a essere una marmotta c'è chi ha scritto cosa si prova a essere un pipistrello bisogna rischiere a me cosa si prova a essere una marmotta e così via per tutte le miriade di specie non umane che esistono sul pianeta e che noi non conosciamo ancora allora dicevo la rivoluzione scientifica è un croceria importante in tutto questo discorso e è quello che fa la grossa differenza tra la scenità occidentale e le altre scenità tant'è vero che hanno cominciato a seguirci una volta che hanno visto che con un certo metodo di indagine sulla natura che vuol dire un certo sguardo sulla natura avevamo dei risultati otteniamo dei risultati che gli altri non avevano e quindi sono venuti adeguare la rivoluzione scientifica la faccio breve ha in un punto preciso la sua caratteristica principale che a noi interessa nella negazione dell'antropomorfismo cioè fino a 600 per dirla in maniera così crozza la scienza era qualitativa la scienza di Aristotele è la scienza qualitativa e che ci fosse un flusso un passaggio costante tra l'umano e il non umano era accettato e accettabile quella dicotomia di cui parlavo prima quelle dicotomia di cui parlavo prima potevano essere giocate esistono in tutte le culture le dicotomie tra l'umano e il non umano il problema è che non sono mai dicotomie radicali irreversibili sono sempre delle opposizioni binarie su cui si può lavorare e che possono essere superate a partire invece dalla rivoluzione scientifica noi abbiamo uno sguardo sulla natura che è uno sguardo appunto quantitativo calcolante utiliteristico cioè la natura è esattamente quello che dicevo prima materia a nostra disposizione dove possiamo plasmare e lo vogliamo e per poter arrivare a questo abbiamo dovuto appunto mettere in campo una serie di linguaggi matematici fondamentalmente proprio per ridurre ogni possibile antropomorfismo cioè l'idea che ci sia qualcosa che io condivido con l'oggetto che sto studiando l'antropomorfismo tant'è vero che quando voi come dire la prima cosa che si fa per fare sperimentazioni sugli animali è negare assolutamente una umanità all'animale cioè che l'animale sia simile a me altrimenti non potrei farci delle sperimentazioni non so se è chiaro con il paradosso che io faccio sperimentazioni sugli animali perché sono simili a me però lo posso fare perché non sono simili a me com'è che ci troviamo dentro questa contraddizione? appunto perché viviamo in un sistema che si fonda su queste dicotomie e che produce da un lato una serie di effetti strabilianti perché è chiaro che basandosi su questa visione della natura io posso attraverso i miei meccanismi tecnologici di manipolazione ottenere degli effetti strabilianti che io non considero tutti negativi ti ho detto per incise ma dall'altro lato agisco proprio a partire da un presupposto che è falso cioè che ci sia una totale una radicale discontinuità tra me e ciò su cui io opero la natura cioè che la natura sia oggetto e che io sia il soggetto che io sono il soggetto che rimane in quale oggetto ok allora questa che la natura non vada antropomorfizzata è un tabù radicale no scusate non posto è un tabù è un tabù profondo della nostra cultura tant'è vero che chi comincia a fare discorsi su i limiti della scienza attenzione perché la scienza si immediatamente viene utilizzata un fricchettone uno che pensa che la natura è appunto non so la fatina la fatina natura che in cui noi siamo tutti quanti belli abbracciati e dire viva no è un discorso che va per affatto è chiaro che se io non pongo come dire se la scienza è in qualche modo scienza moderna è in qualche modo parte dal presupposto che tutto è lecito perché tanto tutto al di fuori dell'uomo e anche qui bisogna vedere come fino a che punto è soltanto materia a mia disposizione oggetto morto su cui io posso agire come voglio è chiaro che non c'è limite a quello che posso fare a quello che possiamo fare con la società salvo poi vedere negli effetti distruttivi perché è inevitabile che siccome il punto di partenza di questo discorso è falso e contraddittorio che c'è questa cesura radicare fra me e l'altro da me che non sta né cero né terra allora è chiaro che poi un sistema fondato su questo produce delle disfunzioni produce delle distorsioni economiche sociali epicologiche il problema qual è? è che per risolverle se uno non cambia paradigma cioè un sguardo sulla natura riproduce esattamente gli stessi meccanismi e allora dice beh abbiamo prodotto questo disastro abbiamo la zootecnia fa disastri come li risolvo con la zootecnia produco animali più adatti a quel tipo di alimentazione che non va bene per quel tipo di animale lo sapete sono cose banali che sapete anche voi allora bisogna cambiare quindi lo sguardo per modificare alla radice questo tipo di sistema c'è l'approccio che è diverso il problema qual è? è che non è soltanto una questione appunto simbolica cioè relativo soltanto al modo in cui noi pensiamo noi stessi e la natura purtroppo è anche un sistema produttivo quindi ha anche un coté materiale ha anche un aspetto economico in senso forte che ci troviamo di fronte perché l'età moderna ha avuto appunto ha visto appunto un movimento sinergico tra una visione appunto quantitativa scientizzata della natura che permetteva uno sfruttamento maggiore della natura e dall'altro un sistema economico un modo di produzione nuovo quello in cui ancora noi viviamo che appunto treva sostentamento arricchimento dallo sfruttamento sia degli umani che degli uomini cioè un sistema produttivo fondato sull'accumulazione di risorse e sulla espansione illimitata ora sistemi produttivi fondati sull'accumulazione e l'espansione anche questi ci sono sempre stati nella storia dell'umanità si chiamano società di produzione si fondano sull'accumulazione e sull'espansione il problema è che la società di produzione in cui noi viviamo oggi non conosce limite e quindi le sue contraddizioni esplodono in continuazione e noi cerchiamo di risolvere sempre con lo stesso modalità che ha prodotto queste disfunzioni allora quali sono le soluzioni che si possono immaginare io faccio filosofo non faccio economista e quindi non parlerò degli aspetti pratici pragmatici ne parlerà qualcun altro e dico che però sicuramente bisogna immaginarsi in un modo diverso di vivere di convivere tra umani e tra umani e non umani per risolvere i problemi che noi ci troviamo di fronte la soluzione appunto l'ho già accenuto prima secondo me non è un ritorno si tratta di tornare a delle società tipi di società precedenti per vari motivi anzitutto perché tutte le società anche le società tradizionali si fondano su quella opposizione fasulla tra umano e non umano che noi invece oggi siamo in grado di articolare in modo diverso articolare non superare articolare in modo diverso il rapporto tra l'umano e non umano sicuramente non considerandola questa barriera una barriera assoluta che mette l'uomo dalla parte e tutte le altre specie viventi dall'altra perché questo è veramente follia non possiamo pensare così in nessun ordine di pensiero teorico né filosofico né scientifico né tantomeno evoluzionistico non possiamo pensare così che c'è l'uomo e tutte le altre specie quindi questa barriera ma barriera che va appunto ripensata in maniera diversa è una barriera corosa in realtà le specie sono tutte diverse innanzitutto e gli esseri viventi sono delle singolarità questo lo dobbiamo dire che poi questo sia un pensiero così radicale che uno comincia a dire vabbè ma allora la zanzara ma allora come facciamo questo sì va bene poi i problemi pratici ci penseremo ma noi dobbiamo prima articolare i concetti in maniera giusta non possiamo pensare di partire con dei concetti già fasubili capite? quindi prima lanciamo l'immaginazione fin dove l'immaginazione ci può spingere per comprendere lanciare l'immaginazione fin dove ci può spingere per comprendere lo dico a ragione di tutta perché il nostro modo di pensare è limitato il nostro modo di immaginare è limitato dal tipo di sistema di civiltà in cui noi viviamo la nostra sensibilità è limitata dal modo in cui noi viviamo e quindi l'unico organo che noi abbiamo che ci spinga che ci permette di andare al di là nei nostri limiti dell'immaginazione riuscire a proiettarci oltre l'orizzonte del presente questo lo dobbiamo fare è un esercizio che dobbiamo fare poi le risposte pratiche giorno per giorno le articoleremo in maniera le articolerà chi sarà in grado chi avrà questo compito oneroso ma noi oggi qui abbiamo il dovere di pensare in maniera giusta il rapporto nostro con l'altro da noi in tutte le sue forme quindi dicevo non si tratta di tornare indietro la società che comunque vivevano questa dicotomia che noi abbiamo oggi almeno da un punto di vista filosofico e anche scientifico se pensiamo all'evoluzionismo superato abbandonato non c'è un noi e un altro fuori di noi completamente altro da noi con cui non possiamo entrare in relazione in nessun modo perché sarebbe inferiore o semplicemente diverso questa è una visione superata ma poi non capisco mai perché ci dobbiamo tenere le società tradizionali perché producevano in maniera meno distruttiva del capitalismo però era una società comunque violente per esempio una società in cui la donna era servita non si esiste cioè questo non si capisce perché dovrebbe cambiare la società tradizionale ce la riprendiamo con tutti i suoi intetti se siamo usciti dalla società tradizionale evidentemente abbiamo fatto un percorso che ci fa dire ma questo non ci sta bene questo non ci sta più bene allora come non ci sta più bene lo schiavismo non ci sta più bene il sessismo magari non ci sta più bene dire che c'è l'uomo e c'è tutte le altre specie dall'altra parte cominciare a ripensare anche i rapporti tra le specie allora dicevo la soluzione qual è? io la dico appunto in maniera teorica da filosofo mi scuserete ma questo è il mio mestiere anzitutto ripensando la nostra identità ripensando la nostra identità cioè non pensarci più come un noi che esclude con una con una muraglia tutto ciò che è altro da noi perché inevitabilmente questa mossa è la mossa di una esclusione che ghettizza di una esclusione che riduce nel senso di impoverisce l'altro e anche la mia capacità di esperire l'altro dicevo prima tanto gli animali selvatici quanto gli animali domestici sono ciò rispetto a cui noi abbiamo problemi a reazionarci anche con gli animali domestici perché non possiamo più stabilire ciò che è nostro e ciò che non è nostro nel rapporto con loro allora questo non ci fa tanto problema perché comunque ormai convivono con noi e via però se noi dobbiamo ripensare alla radice chi siamo per dire come vogliamo essere come vogliamo vivere inevitabilmente dobbiamo ripensarci non come una come un'identità chiusa che esclude l'altro da sé ma appunto inevitabilmente come una dialettica un'identità dialettica in cui c'è un confluire continuo tra il noi e l'altro da noi tra l'interno e l'esterno ripensare quindi ripensarci quindi non come divisi tra noi e l'animale che siamo che sia il nostro corpo che sia la nostra sensibilità che sia la nostra parte femminile per me che vi parlo infantile l'inconscio tutto questo è tutto ciò che la civiltà occidentale ha ridotto ha tradotto nel negativo del noncio che l'uomo in qualche modo deve dominare controllare ed espellere da sé per poter essere veramente sé allora la radice di una civiltà che non sia una civiltà del dominio ma sia una civiltà dell'accoglienza della solidarietà non ci può essere un io chiuso nel suo fortinizio ma un'identità appunto porosa un'identità aperta in divenire accogliente che sappia accogliere l'altro sapere accogliere l'altro cosa significa concretamente accogliere l'altro ma l'altro è così diverso che io neanche lo capisco appunto questo attiene a come si organizzerà una società libera ma una società libera è una società che sa anche immaginarsi diverse e noi questa libertà non ce l'abbiamo dobbiamo sforzarci per immaginarci diversi da come siamo e inevitabilmente è una società che deve considerare quindi la natura come soggetto e non come oggetto la natura non è un oggetto a nostra disposizione la natura ha una soggettività questo oggi detto così inevitabilmente sembra fichetonismo e io lo so però purtroppo non c'è un altro modo per dirlo ma perché le carte sono truccate perché se il soggetto sta di qua e si definisce proprio perché esclude l'altro capite voi che io per disinescare questo meccanismo inevitabilmente ho detto guardate che però anche dall'altra parte c'è il soggetto anche la natura è il soggetto ma quando dici questo vedete non riesci neanche a dirlo perché dire la natura è il soggetto è una bestemmia oppure è l'LSD no non è né l'a bestemmia né l'LSD è che il concetto di soggetto va rinegoziato non è tutto di qua e di là niente c'è una soggettività nella natura che parla a noi prevalentemente nella soggettività animale ecco perché dico l'animale è il croceria di questo ripensamento della natura dov'è che la natura ci parla in maniera più viva del suo essere soggetto del suo avere desideri del suo avere bisogni del suo comunicare dov'è che ci parla in maniera più evidente ma nei animali non umali ovvio perché lì dobbiamo sforzarci di dire che non è un soggetto dobbiamo sforzarci dobbiamo costringerci a dire che non è un soggetto non ci siamo mai definiti in contrapposizione con le piante non abbiamo detto mai l'uomo è una pianta razionale perché l'uomo è un animale razionale no? perché perché l'animale è più di un figlio e quindi ci parla più direttamente dobbiamo far vita che non lo capiamo maiale che urla dice cartesio è come un organo che tu previ il tasto e metti un suono è un ride oggi di cartesio ma non faceva cartesio dire queste cose e noi viviamo però nel sistema che funziona così come se l'animale fosse un organo in cui tu speggi il tasto e esce il suono e non un urlo dice ma urlo vabbè ma urlo è antrocomorfo che urla ma urla soffre soffre no soffre è antrocomorfo lo vuoi dire vedete è un gioco truccato allora dobbiamo entrare dentro questo gioco simbolico e disinnescarlo l'unico modo è dire le bestemmi bestemmiare la natura è il soggetto lo dobbiamo dire e poi disinnescare anche il sistema produttivo cioè organizzare un sistema produttivo in cui non ci sia la iperproduzione la iperproduttività che non è che funzionava nessuno e ormai questo si è capito perché il problema quando tu soddisfi un bisogno non sta nell'oggetto che soddisfa il bisogno ma anche nel bisogno stesso e quindi l'iperproduttività è propria di una società politica è una società dello spreco fa piacere leggere l'unico passo che vi leggo di Marcuse dall'uomo a una dimensione scritto negli anni 60 che diceva che uno dei problemi della società contemporanea è la proprio l'iperproduzione che non è funzionale a niente se non appunto a questa accumulazione ed espansione nell'era contemporanea la sconfitta della scazzità è ancora limitata a piccole zone della società industriale avanzata la loro prosperità nasconde l'inferno dentro e fuori i loro confini cioè nelle piccole zone della società occidentale avanzata dove c'è il benessere questo benessere è fondato sull'inferno che altri vivono fuori dai confini e anche dentro i confini pensiamo appunto alla natura asservita manipolata schiavizzata dentro le società del benessere inoltre essa di fondo è una produttività regressiva repressiva scusate una produttività repressiva cioè una produttività che ti come dire che ti fa mettere in dubbio che tu sia adatto a questa società la produttività repressiva ma come non hai bisogno di tutte queste cose che produciamo o non hai bisogno certo se non hai bisogno sei strano e i falsi bisogni è questo concetto che negli anni 60 andava tanto i falsi bisogni che oggi è difficile i falsi bisogni all'epoca era più facile dirlo cioè come fai tu giudichi i miei bisogni e i bisogni sono miei sono veri e insomma dipende dipende i bisogni sono un prodotto sociale non sgordano così dall'individuo quindi anche i bisogni possono essere falsi è repressiva la società contemporanea giusto nella misura in cui promuove la soddisfazione di bisogni che richiedono si continui la corsa da topo del tenersi all'altezza dei propri pari e dell'obsolescenza pianificata l'obsolescenza pianificata vuol dire che le cose diventano vecchie che sono pianificate perché diventino vecchie scritte negli anni 60 godendo della libertà di non usare il cervello lavorando con e per i mezzi di distruzione mezzi di distruzione le ovvie comodità create da questo tipo di produttività e più ancora il sostegno che essa dà ad un sistema di dominio fondato sul profitto facilitano la sua importazione nelle aree di non avanzare del mondo all'epoca ancora era all'inizio questa infiltrazione di questo sistema produttivo nelle aree non si parlava ancora dell'India per dire che era un paese postcoloniale dove l'introduzione di un tale sistema significa pur sempre compiere uno straordinario progresso in termini tecnici e umani è certo è ovvio è vero quello che dicevo prima non è che questo sistema nasce dalle società tradizionali così per caso nasce perché soddisfa alcuni bisogni che nelle società tradizionali non erano soddisfatti il problema è che ne produce altri di falsi di distruttivi e che mette in moto un meccanismo che nelle altre società precedenti non era visibile perché erano società sostanzialmente stazionarie ma stazionarie anche nella loro violenza nel loro servimento che comunque del debole che comunque c'era pure la stretta relazione tra capacità tecnica e capacità politico manipolativa tra produttività come fonte di profitto e dominio fornisce alla sconfitta della scarsità le arabi per bloccare la liberazione cioè la liberazione non va avanti proprio perché si pensa in termini di soddisfazione dei bisogni e di imitazione della scarsità come se la scarsità fosse il problema ma oggi il problema è la scarsità in gran parte è la pura quantità di beni e servizi lavoro e svago nelle regioni super sviluppate che porta a questo blocco di conseguenza il cambiamento qualitativo cioè il cambiamento di sistema sembra presupporre un cambiamento quantitativo nel tenore avanzato di vita voglio a dire una riduzione del sovraspiluppo è molto prima che si parlasse di degrescita ma come se già aveva visto questa cosa la crescita illimitata è un problema perché la crescita illimitata prima ancora che ne c'è gli effetti parte da quei presupposti che dicevo io prima cioè di un soggetto che ha fuori di sé una terra di nessuno su cui lui non ha verso cui lui non ha nessun dovere perché è un altro perché se lui è vivo se lui è senziente il resto è pura materia priva di consapevolezza se lui ha dei diritti il resto è qualcosa che non ha diritti se lui ha dei bisogni il resto è ciò che non ha bisogno capite questa antidotopia allora la crescita infinita oltre che per i suoi effetti distruttivi è sbagliata proprio come sistema come pensiero che ha la sua base si fonda su un assunto sbagliato che qui ci sia un soggetto e che lì ci sia un oggetto che qui ci sia un io e che lì ci sia dell'altro che è a mia disposizione allora non è possibile una crescita infinita e limitata e quindi distruttiva se non a partire da queste premesse ecco perché io sinceramente non so se sto qui a parlare ad antispecista o ad ecologista perché per me da questo punto di vista il problema non si pone cioè se non cambiamo la radice il modo di pensare noi stessi e quindi inevitabilmente anche l'altro e quindi inevitabilmente anche la madre non cambiamo sistema rimaniamo irretiti dentro la civiltà del domenico dobbiamo spingerci a immaginare altro grazie